Io mi chiamo Franco Berardi, i miei amici mi chiamano Bifo, è passato una ora, doze ore, meravigliose alla Facoltà di Libre, parlando di quanto è espantoso essere il mondo nel quale viviamo e di quanto meraviglioso potrebbe diventare se la Facoltà di Libre si espandaria in tutti i luoghi del planeta.